buonasera per chi non avesse partecipato a ieri mi torno a presentare sono Marcello Levi responsabile del supporto e di formazione per i partner 3CX per il territorio italiano oggi andiamo a completare gli argomenti che riguardano il livello di certificazione base del programma di formazione 3CX e cominciamo con uno degli argomenti principali di questo modulo perché è quello sul quale per esperienza diretta e mia e probabilmente anche vostra se siete nelle prossime mesi se siete agli inizi con il vostro rapporto con 3CX è la parte sul quale più spesso si hanno difficoltà per una corretta implementazione sto parlando della configurazione del firewall stiamo parlando siamo in uno scenario la lezione di oggi è il prosiego di quella iniziata ieri nel quale abbiamo simulato un'installazione di un centralino cosiddetto on premise cioè all'interno di una rete locale gestita dal cliente finale qualunque addetto ai lavori del mondo di information technology sa che è assolutamente necessario per una sicurezza basilare a livello di rete professionale avere un firewall fra sé e la rete pubblica che possa separare e mantenere protetti gli applicativi e i server della propria rete locale non esiste però firewall degno di questo nome che nasca già aperto per consentire il traffico void ecco che quindi diventa necessario nel momento in cui io vado a installare il mio centralino in un pc in un server interno alla mia rete locale andare a lavorare sul firewall affinché il firewall possa consentire un corretto una corretta un corretto passaggio dei dati fra rete interna e rete esterna in modo tale che il VoIP sia consentito e affidabile ok parleremo quindi di concetti come il NAT e la port preservation vi presenterò quello che voglio che diventi il vostro per giorno amico cioè il famigerato SIPALG o SIPALG e vedremo le procedure e le porti necessarie per la configurazione di trunk VoIP e la configurazione di client e apparati 3CX remoti o di singoli interni remoti ok infine parleremo di quello che è lo strumento che 3CX ha integrato sulla sua console di gestione per un monitoraggio autonomo che potete fare voi stessi sulle vostre postazioni per verificare che la configurazione del firewall sia andata a buon fine e il cui superamento diventa poi una condizione necessaria per l'accesso al supporto 3CX come dicevamo è assolutamente necessario affrontare l'argomento della configurazione del firewall i firewall nascono chiusi e quindi dovranno essere configurati manualmente se non siete voi stessi a gestire il firewall del cliente finale presso il quale andate a lavorare dovrete ben prima del giorno X nel quale andate a fare l'installazione dell'impianto dovrete accertarvi di entrare in contatto con chi ne gestisce il firewall e prendere gli accordi necessari affinché vengano aperte e inattate le porte che vi interessano quindi assolutamente evitate di presentarvi presso il cliente per effettuare un'installazione senza aver precedentemente creato le condizioni affinché il firewall non sia un problema tutto questo va affrontato prima perché se viceversa vi presentate lì dicendo bene adesso dobbiamo gestire il firewall e nessuno lo sa fare avete perso la giornata o rischiate di venire via e di avere comunque lasciato un impianto a metà quindi assolutamente necessario avere chiarito prima con il cliente chi gestisce il firewall aziendale dando per scontato che in un'azienda il firewall ci sia ricordatevi che quando il centralino parla secondo il protocollo SIP 3CX è un centralino SIP ma non tutte le chiamate entrano ed escono da 3CX in protocollo SIP ad esempio le chiamate nei confronti degli apparati e delle app dei client RCX bene quando vi sono chiamate SIP tipicamente verso interni remote cioè telefoni hardware scrivania esterni alla rete piuttosto che VoIP provider in questo caso per ciascuna per ciascuna chiamata vengono utilizzate più porte nello specifico di solito 3 porte una porta per la segnalazione SIP e due porte RTP che vengono aperte da ciascun lato una in trasmissione e una in ricezione e sul quale viene scambiato il traffico audio ok se il firewall non viene istruito ad aprire queste porte la comunicazione in SIP non andrà a buon fine dicevamo quindi che diamo per scontato che ci sia un firewall presso la sede del cliente su il sito 3CX trovate una serie di guide di tutorial per alcuni firewall di esempio ma dovete considerare che non si tratta in questo caso di concetto di firewall supportato ok i firewall quelle devono essere prese come vere proprie guide come ispirazione ma se avete marche modelli differenti versioni di firmware differenti eccetera voi dovrete fare riferimento al vostro proprio firewall perché nota bene 3CX non configurerà il vostro firewall ne parleremo anche dopo in chiusura di questo modulo noi cominceremo a darvi assistenza nel momento in cui il firewall check viene superato ok ma cosa significa configurare un firewall qui vediamo qualche nozione di base diciamo così il firewall deve essere in grado di effettuare il cosiddetto NAT network address translation cioè la possibilità di trasformare una richiesta da proveniente da un IP privato l'IP interno del centralino interno della rete locale verso un IP pubblico uscendo dall'IP pubblico della propria connessione internet in modo tale che sia possibile poi per i segnali che tornano indietro parlando di nuovo con l'IP pubblico riportare rienviare i dati di risposta allo stesso PC che ne ha fatto con IP privato che ne ha fatto richiesta in origine quindi questa operazione di traduzione in modo tale da mantenere le connessioni aperte fra IP pubblico e IP locale è il cosiddetto NAT ok il firewall poi ha la possibilità di poter creare aprire quindi di poter lasciare aperte le porte da qualunque IP di provenienza esterna pubblica oppure di restringerne l'accesso tramite le cosiddette regole ACL access control list cioè io creerò delle liste tale per cui io la porta 50-60 porta SIP standard la tengo effettivamente aperta ma solo per le comunicazioni che mi provengono dal provider ad esempio e vado a inserire gli IP pubblici statici che il provider mi ha fornito questo è un'altra modalità è un'altra funzionalità tipicamente presenti sui firewall quali sono i soggetti che hanno necessità della configurazione del firewall beh abbiamo detto prima di tutto le linee VoIP quindi la configurazione di trunk con i vari VoIP provider i client 3CX vedremo che usano porte diverse ma ne usano anche loro i telefoni IP hardware di cui abbiamo visto un esempio l'altro giorno ieri in rete locale ma possono essere approvvigionati come in termini remoti pensiamo al telelavoratore piuttosto che un centralino in cloud tutti i suoi interni sono esterni alla rete locale quindi telefoni hardware che vengono registrati direttamente sul centralino attraverso internet oppure tutti quegli altri apparati sempre fatto di A3CX che ce ne parlerà più avanti nei corsi intermedio avanzato ma mi consentono di creare reti di collegamento VoIP fra sedi diverse della mia azienda sto parlando di altri centralini A3CX che possono essere messi in ponte in modo da allargare la community dei miei interni agli interni dell'altro centralino oppure un altro strumento se ne parla in maniera specificatamente si può utilizzare un discorso di SBC session border controller in modo tale che lui stesso ci sia un piccolo apparato 3CX che mi fa da chiamiamolo proxy zip verso gli interni a valle se ne parlerà più avanti in maniera più dettagliata si è anche possibile impostare un IP pubblico direttamente sul centralino in modo da non dover utilizzare il NAT non ho capito sia in un discorso nel caso cloud l'IP pubblico al solo il solo IP del mio centralino poi bisogna vedere invece in quali altri scenari di rete c'è uno scenario c'è un documento ben specificato se ne parla di più avanti nel corso dove supporta tutti i diversi scenari di rete associabili al mio centralino ok il pv6 è già supportato però sempre in abbinamento comunque con interfacce pv4 ancora il pv6 puro ancora non lo è la prima cosa di cui parliamo è il full con NAT 3CX richiede il full con NAT che cos'è il full con NAT la capacità sulla parte pubblica del mio apparato firewall di poter gestire più connessioni sulla stessa porta da rigirare verso lo stesso IP pensiamo ad esempio a un discorso di la porta SIP dalla porta SIP io posso avere più dispositivi oppure la porta tunnel che arrivano a collegarsi sulla stessa porta del mio IP pubblico se il mio router risponde il primo lo lascia collegare e viene e lo NAT correttamente verso l'IP locale ma tutte le successive richieste la risposta sarà no questa porta è già stata assegnata alla connessione con il provider X il provider Y non riesce a utilizzarla ecco che avrei dei problemi ok quindi assolutamente il full con NAT è una funzionalità devo dire che è una funzionalità abbastanza standard sui router e sui firewall in commercio quindi tipicamente a questo livello non abbiamo problemi perlomeno con gli apparati che vengono distribuiti in Italia ed in ogni caso è uno dei test che vengono verificati dal firewall check quindi tipicamente su questo non è un problema un po' più delicato è il discorso della port preservation cioè del mantenimento della porta molti apparati si arrogano il diritto di associare di assegnare chiedo scusa alla parte esterna una porta che non è equivalente a quella che è stata negoziata nella parte interna della rete il risultato può essere che io ti dico io ti passo l'informazione che ti aspetto a via Roma 15 interno interno 6 bussa alla porta numero 3 e invece il centralino per ragioni sue dice guarda la persona con cui vuoi parlare ti aspetta in via Roma interno 15 bussa alla porta numero 8 perché secondo lui è una porta che è stata usata meno volte il risultato tu bussi in un ufficio che non è il mio ok quindi questo in particolare è un aspetto che colpisce il mondo del SIP e non altre tipologie di applicativi quindi magari un utente ha una rete che non gli dà alcun problema usando altri applicativi ma quando passa ad utilizzare 3CX lo rileva perché perché la negoziazione delle porte come vi dicevamo è dinamica e contenuta all'interno non è un metadato nel header dei pacchetti ma è contenuta all'interno del pacchetto stesso cosa succede? succede che nella negoziazione SIP che si apre su quella che è la porta SIP standard impostata lato centralino e lato provider o lato telefono e lato centralino noi ci presentiamo e diciamo ciao sono il centralino Marcello tu caro provider sappi che ti sto parlando da questa che è la mia porta SIP e ho bisogno di avere connessioni audio con te e le porte disponibili nel mio range sono 90001 e 900025 ok dall'altra parte mi risponderà benissimo Marcello perfetto tu sei perfettamente registrato allora io invece ti metto a disposizione la 6500024 e la 6500027 questo è quello che ci siamo scambiati nei pacchetti se però il firewall ha la mia richiesta di aprire la 9002 quello che avevo detto me la mappa poi e me la fa uscire sulla 35000 il provider mi manda la sua trasmissione verso la mia quella che lui pensa essere la mia porta la 9002 e non andrà a coincidere con la 35000 che ha aperto il mio firewall il risultato qual è? che si arriva ad avere audio monodirezionale o audio mutuo ok? quindi assolutamente e questo è un altro degli aspetti che viene verificato dal nostro firewall check il firewall deve consentire il mantenimento della porta fra parte pubblica e parte privata una delle funzionalità che spesso interferiscono in questo è il famigerato SIPA LG che è una funzionalità di molti firewall che si ritiene essere è stata sviluppata per ottimizzare le virgolette sono d'obbligo il protocollo SIP ma in realtà per tutte quelle che sono comunicazioni non è un ecco questo non è una cosa solo di 3CX la maggioranza di centralini hanno questi problemi con questo tipo di funzionalità si prende lui l'RD di rinegoziare le porte a suo piacimento soprattutto non avvisa che lo sta facendo quindi si hanno comunicazioni telefonate che non funzionano che cadono dopo 8 secondi o che hanno audio monodirezionale ecco quindi verificate che il router e firewall lato cliente lato rete del cliente finale non abbiano funzionalità cosiddette SIPA LG attive su sul proprio su loro stessi troverete fior di forum che citano come disattivare determinate funzionalità sui firewall della marca XY più stosto che YZ ok non interpellate 3CX per chiedere come disattivare questa funzionalità sul proprio firewall soprattutto se il firewall check la rileva quindi nel momento in cui abbiamo la certezza che c'è interpellate il supporto del fornitore del produttore del firewall per trovare il modo per disattivare questo tipo di ottimizzazioni detto questo quali sono le porte che io devo andare effettivamente ad aprire e a natare da pubblico a privato sulla mia rete ho due diciamo così due blocchi di porte che dovrò arrivare a mixare per un totale poi di quattro regole in sostanza la prima è ciò che riguarda lo scenario SIP puro con chi è che 3CX parla SIP puro e solo SIP puro con i VoIP provider quali sono le le porte che vengono utilizzate dal SIP puro le porte che vengono utilizzate dal SIP sono la porta SIP default 50-60 ma personalizzabile al momento dell'installazione in entrambi i protocolli UDP e TCP ok dopodiché a questo va in abbinamento cioè ciò che i due apparati SIP in questo caso centralino e provider si dicono in connessione sulla 50-60 su quella che è la porta SIP configurata pilota l'apertura di ulteriori due connessioni un entrante e un uscente sulle due porte audio che vengono negoziate nel corso della fase cosiddetta di handshaking cioè stretta di mano bene il range che il centralino comunica al provider sul quale è disposto a scambiare porte audio è quello di default con la versione service pack 6 dalla 9000 alla 10999 quindi 2000 porte ok queste vanno aperte sul firewall in questo caso solo se per il protocollo UDP dalla service pack 6 uscirà credo presto anche un articolo è comunque possibile gestire in modo più puntuale attraverso i parametri la propria porta iniziale e finale se queste 2000 porte per un mio centralino a 4 chiamate sono troppe e io voglio avere un firewall più chiuso potrò ridurre questo range semplicemente intervenendo lato parametri del mio centralino su una semplice riga e dando ok quindi la personalizzazione del range di porte RTP a partire da service pack 6 è stata molto semplificata uscirà penso a breve un articolo che lo spiega in ogni caso il default è questo 2000 porte dalle 9000 alla 10999 ok e queste sono le porte SIP porta SIP impostate di default 50 e 60 di default ma è anche configurabile in entrambi i protocolli UDP e TCP e range di porte audio solo UDP in default 9000 10999 questo non è configurabile in fase di installazione è editabile in un secondo passaggio una volta che ho il centralino operativo andando a intervenire sui parametri e questo è il SIP puro in abbinamento al SIP puro ho quello che potremmo chiamare il 3CX ciò che viene scambiato fra apparati 3CX quali sono gli apparati 3CX che possono parlare con il mio centralino dall'esterno alla rete bene i client ok altri centralini 3CX che metto in ponte oppure degli apparati sempre sviluppati da 3CX a livello di software che si chiama SBC Session Border Controller che voi dovete pensare a essere un software che io vado a installare in un apparato di rete di un piccolo ufficio remoto che mi fa lui da tunnel fra tutti gli interni di quella rete remota e il mio centralino cioè non sarà ogni interno viene a registrarsi singolarmente questo è il classico interno remoto ma ci sarà il solo SBC che si registra su 3CX utilizzando la porta tunnel e a valle tutti i telefoni della sede remota si registrano presso di lui quindi lui non è un altro centralino è solo chiamiamolo un imbuto un SIP proxy che tunnelizza tutte le connessioni su un'unica porta ecco questi apparati abbiamo detto le app e i client 3CX altri centralini in tunnel o gli SBC sviluppati in tutti i tre i casi da SBC possono parlare con il mio centralino basandosi su solo due porte che non riguardano il SIP puro e sono la porta tunnel default 5090 ma liberamente configurabile all'inizio anche in questo caso sui due protocolli TCP e UDP e la porta HTTPS default 5001 a sua volta aperta nel solo protocollo TCP ok quindi abbiamo detto due blocchi SIP puro porta SIP entrambi i protocolli range di porte audio solo UDP apparati 3CX porta tunnel entrambi i protocolli porta HTTPS solo TCP lo scenario ibrido che riguarda di web meeting allora anche per il web meeting in realtà è necessario aprire una porta sola quindi chi dice che per web meeting non è necessario aprire la porta non è esattamente così per web meeting dovrò aprire una porta sola che è quella HTTPS perché il server 3CX dovrà mettersi in comunicazione comunque sulla porta HTTPS su quello che è il server di videoconferenza vera e propria e infine lo scenario ibrido per quanto riguarda gli apparati che dall'esterno possono accedere a 3CX è l'interno remoto STUN cioè il mio telefono hardware che ho configurato esternamente alla mia rete l'interno del mio teleraboratore la casa al mare la singola sede commerciale fatta da un solo telefono tutti questi casi in cui c'è il telefono stesso che andando su internet si registra sul mio centralino dall'esterno è un caso ibrido perché il telefono hardware standard parla in SIP puro e quindi avrà bisogno di avere le stesse porte del provider quindi porta SIP in entrambi i protocolli e range di porte audio dalla 9000 alla 10999 solo in UDP ma in più essendo gestito e pilotato da 3CX ha bisogno di quella che è la porta dove passano la maggior parte delle informazioni di 3CX che è la porta HTTPS lo vedete in questo slide in sostanza se a queste porte 50-60 entrambi i protocolli range di porte audio 9000 10999 solo UDP porta HTTPS solo TCP aggiungete la porta tunnel default 50-90 in entrambi i protocolli UDP più TCP avete e quindi sono 4 regole ok avete aperto il centralino a tutto ciò che ha diritto di collegarsi con lui qualunque scenario voi vogliate mettere in campo riuscirete a farlo ok una così un trick che mi è stato segnalato nei vari corsi da partner che hanno fatto diverse esperienze e che io vi metto come ve lo do come me l'hanno raccontato a me anche se me l'hanno raccontato più persone in diversi casi ok vi sono stati casi in cui regole apparentemente perfette non davano problemi soprattutto sulla 50-60 sulla 50-90 cioè sulle porte che devono essere aperte in parallelo sui due protocolli e che invece sdoppiando la singola regola in due regole una per protocollo i problemi sono magicamente scomparsi mi spiego la porta SIP posso creare posso annattarla per protocollo UDP TCP o UDP e TCP uno vede nel nostro schema fa un'unica regola UDP e TCP e invece ci sono problemi nel momento in cui vado a creare una coppia di porte una coppia di regole porta 50-60 UDP riga sotto porta 50-60 TCP spesso questi problemi scompaiono credo che un vostro collega vi stia dando conferma in chat anche in questo caso e questo va fatto allora a maggior ragione per due porte in particolare cioè la porta che è stata impostata come porta SIP e la porta che è stata impostata come porta tunnel perché sono le due porte entrambe fondamentali che sono le richieste di cui è richiesta l'apertura per entrambi i protocolli ok quindi segnatevi questo trick perché questo viceversa non è documentato su altri sulle slide ma vi può salvare evitare mal di testa ok inoltre quando io cercherò di fare se ieri avete fatto caso quando ero sul wizard di setup collegato sul mio centralino il browser in alto era sulla porta era un localhost 2.5015 quindi qualora voi facciate installazioni su macchine da remoto usando il wizard di setup potete fare e dovete aprire anche la porta 5015 se però siete in RDP o in SSH potete andare come riga di comando non è obbligatoriamente necessario ok è uno scenario un po' un po' particolare parliamo adesso di quello che è lo strumento che mi garantisce che quello che ho fatto sul firewall è andato a buon fine e che una volta che ho superato il test mi dà anche diritto a chiedere l'intervento di Marcello qualora ci sia qualcosa che non va e parliamo del firewall check il cui pulsante è accessibile sulla dashboard e lo vedete qui ok è rosso su tutti i nuovi centralini perché finché non viene superato resta rosso oppure se non viene superato resta rosso e a me e a voi nel momento stesso in cui apro ho dei problemi e apro la console e lo vedo rosso mi dovrebbe dare già delle così far nascere il sospetto che c'è qualcosa che non va dicevamo quindi il lancio del firewall checker è fondamentale ovviamente verde bene rosso male e attenzione il firewall check non da la non fa il test sulla parte sul protocollo TCP ok quindi può esserci il caso di un firewall check superato verde che in realtà ha problemi in uso delle porte tunnel o SIP perché magari non viene gestita correttamente la parte TCP di quella porta ok quindi verificare ricordatevi questo lui il firewall check verifica solo il protocollo UDP quindi verifica e la porta 50001 che abbiamo detto che è richiesta essere aperta solo in TCP non viene proprio testata dal firewall ok quindi il test della 50001 beh lo fate molto facilmente l'abbiamo detto ieri con la vostra app vi registrate l'app sul centrino del cliente spegnete il wifi della rete del cliente l'app si registra da internet pubblica da connettività dati del vostro operatore telefonico se sì vuol dire che la 50001 è aperta ok altrimenti vedreste come dicevamo una delle due parti del mio telefono non funzionerebbe non vedrei la call history non vedrei la presa dei miei colleghi eccetera tutte quelle che sono le informazioni di corollario alla telefonia non riuscirebbero a funzionare quindi avrei un'app zoppicante che mi fa subito capire che la 50001 non è mappata correttamente diciamo che io dopo aver capito e seguito il corso di Marcello ho fatto le mie considerazioni ho configurato il mio firewall e ho lanciato i firewall check il risultato è questo un disastro ok ho un apparato che mi ha completamente rimbalzato indietro beh io però il corso con Marcello l'ho fatto mi sono preso anche la briga di leggermi la guida a questo punto chiamo Marcello per avere aiuto perché io la mia parte l'ho fatta no la configurazione del firewall non è supportata tra CX noi interveniamo dopo il superamento del firewall check ok quindi contattate il supporto del produttore verificate se avete studiato come avete detto avete capito che cosa chiedere e ne parlate con il supporto del produttore mettete mano al firewall di conseguenza se cominciate a utilizzare il centralino andandoci a mappare sopra apparati che faranno uso della configurazione del firewall tipo in termini remoti sui provider eccetera avrete probabilmente problemi ok diciamo che vi siete dati di affare avete impostato qualcosa avete smanettato avete letto sul forum delle guide eccetera qualcosa di meglio bene rilanciate il firewall check ottenete questo risultato insomma beh qui ci siamo quasi vedete che la 50-60 viene risolta la 50-90 sì invece quella RTP no beh qui nel caso precedente ho delle porte che vengono mappate staticamente porta SIP e porta tunnel che si registrano quelle dinamicamente no potrebbe essere in caso in questo caso ho gli interni remoti che si registrano ma non hanno audio perché perché l'audio viene negoziato su le porte audio che in questo caso vengono date rosse però la registrazione viene fatta sulla 50-60 e quindi probabilmente io mi potrei aspettare che un interno remoto si registri ma non abbia l'audio spesso questo è uno scenario di SIPALG ok che interviene proprio nella negoziazione dinamica delle porte audio anche qui a questo punto chiamo Marcello anche qui no ricontattate il vostro supporto del produttore cercate nel dark web tutte le informazioni possibili su quella marca di firewall e mettete ancora mano alla configurazione dopo che avete si spera identificato gli errori e li avete corretti rilanciate il firewall check benissimo se questo è il risultato una bella lista di porte verbi ecco che allora siete pronti per andare avanti e se su questa base avete dei problemi con i provider e interni remoti allora ne potete parlare potete rivolgervi al supporto 3CX ma di solito quando il firewall dà questo risultato problemi di connessione con i provider in termini remoti non ci sono ok quindi riassumendo il full connatel port preservation e il CIPALG vengono testati dal firewall check ok ricordatevi però che il firewall check non non verifica le porte TCP quindi le due porte doppie porta SIP e porta tunnel default 5060 5090 vengono testate solo per la parte UDP e il range e la parte la porta HTTPS che è richiesta la cui è richiesta l'apertura nel solo protocollo TCP non viene testato del tutto però anche lei è utile è importante quindi ma questo è molto semplice anche da testare basta andare sul vostro FQDN da un PC esterno alla rete se vedete la pagina di login allora vuol dire che la porta HTTPS è aperta ok benissimo ecco allora qui un'ultima slide se il SIPALG viene rilevato adesso con l'ultimo firewall check nel caso venga rilevato il SIPALG ci sono dei messaggi un pochino più descrittivi rispetto a una volta ok però ricordatevi che non è può essere indicato un messaggio specifico ma a volte può anche non comparire il messaggio specifico bene questo era il primo argomento domande su questo perfetto ottimo grazie passiamo al secondo argomento al termine del quale faremo una brevissima pausa e parliamo proprio di SIP Trank cioè quelle connessioni che mi fanno da tramite fra il mio centralino VoIP che ha un suo protocollo basato sull'IP sull'internet protocol e la rete telefonica tradizionale che invece si basa su un protocollo IPSTN totalmente diversi come fa il mio centralino IP a dialogare con una linea analogica di un paese estero è perché possa ciò funzionare è necessario che ci sia un soggetto terzo nel mezzo che apre nei miei confronti una connessione IP e che da una sua centrale telefonica ne faccia la portabilità sulla rete telefonica tradizionale questi sono i cosiddetti VoIP provider o SIP provider e che mi danno le credenziali per creare quello che in gergo viene chiamato un SIP trunk cioè un vero e proprio tunnel IP attraverso il quale io posso dialogare sul protocollo SIP e sarà poi il provider stesso a convertirlo in standard telefonico ok di questo parliamo apro una brevissima parentesi 3CX funziona ha diverse guide di configurazione con tutta una serie di apparati gateway cosiddetti gateway SDN o analogici cioè sono dei di solito degli scatolotti che vengono collegati fra il centralino IP e la borchia vera e propria della linea fisica che ho presso di me ok quando io ho una borchia analogica e una borchia ISDN e voglio usare queste linee telefoniche cioè visto che comunque il mio centralino IP è necessario l'interposizione di un apparato che mi faccia lui da traduttore e si chiamano appunto i gateway PSTN 3CX però è una società è un'azienda totalmente come si dice pomposamente VoIP oriented ok ritiene ma non è certo un parere di 3CX ma ritiene che il futuro del VoIP sia solo ed esclusivamente verso i provider puri e che il mondo dei gateway hardware sia destinato a morire di fatto quotidianamente vengono spenti e buttati via ok in Germania è già così in Francia da un paio di mesi fra un paio di mesi le linee fisiche non saranno più attivabili e a mano a mano che verranno via via dismesse quelle esistenti in Italia Telecom ha già dichiarato che andare al 2022 credo smetterà il 40% delle centrali telefoniche attualmente operative non significa che Telecom morirà ma che semplicemente migrerà su VoIP ok e questa migrazione sta arrivando rapidamente senza passare a fare le vittime o quello che noi arriviamo sempre per ultimi devo dire che negli ultimi 18 mesi lo scenario è cambiato completamente e ancora lo sarà ancora di più nei prossimi 18 mesi quindi oggi so per certo che Telecom sta per lanciare servizi in cui porterà direttamente le SIP trunk in casa dei clienti ok non più apparati che fanno da gateway al contrario eccetera eccetera quindi se era una domanda si è già certificata la risposta è ufficialmente no ok quindi il senso è che lo scenario di utilizzo sempre di più di SIP trunk e non di apparati hardware è quello che noi incentiviamo per cui è possibile configurare un mio centralino 3C con una borchia analogica o i SDN sì è possibile è necessario un gateway andatevi a vedere le guide di riferimento ma è stato volontariamente tolta questa parte dal programma di formazione perché noi ci aspettiamo che i nostri partner promuovano e lancino linee voi pure ok bene prerequisiti per questo modulo io mi aspetto anche che voi utilizzate e promuoviate operatori supportati da 3CX la cui lista la trovate sul nostro sito ci sono operatori anche a livelli nazionali anche abbastanza importanti che hanno affrontato con noi un investimento di tempo e risorse affinché 3CX potesse preparare un modulo di configurazione già precotto ok quindi perché ciò che avvenga adesso ciò che io descrivo nei prossimi dieci minuti avvenga poi nel mondo reale è importante che voi vi affidiate a provider facenti parte della lista dei provider supportati per l'Italia ma li potete usare anche per registrare anche in Francia in Germania o altri altri paesi ok e ovviamente il firewall check deve essere superato esiste anche il modulo generico che voi trovate nella lista delle nazioni proprio a livello di generic il quale può tranquillamente essere utilizzato e personalizzato per la configurazione di provider che non trovate nella lista dei provider supportati molto probabilmente funzionerà riempito con tutti i campi in modo corretto funzionerà altrettanto bene se però ci dovessero essere delle problematiche di funzionamento io vi rimanderò al supporto del del produttore se qualcuno di voi ha notato che Telecom Italia compare nella lista di quelli per il cui c'è già un template pronto è vero perché quel template è stato fatto sulla base di test fatti da nostri clienti che hanno mappato i SIP Trank Telecom Italia ma non lo ha trovato nella lista di quelli ufficialmente supportati perché questo non è stato un procedimento fatto quindi usatelo come guida può funzionare nella maggior parte dei casi funziona senza problemi però nel caso ci dovessero essere problemi non rientra nei casi degli operatori ufficialmente supportati ok i provider supportati sono quattro ma trovate due dei due provider business più più importanti e invito chi non sapesse come recuperare le credenziali del proprio account team ad approfondire la conoscenza sul dark web di come è possibile ottenere quello che team ufficialmente non rilascia ok noi non vi diciamo come farlo se però voi siete in possesso delle vostre credenziali potete tranquillamente utilizzare il template 3CX sulla legalità non mi esprimo in modo assoluto ma in ogni caso il modem è libero e quindi se c'è qualcuno che fa una cosa illegale è Telecom che non che nega l'accesso non fornisce le credenziali in chiaro in ogni caso torno a dire a me non interessa come voi siete entrati in possesso delle vostre credenziali team in certi tipi di clienti fornisce il track in ogni caso se voi avete le credenziali potete usarle su 3CX ok quindi non è un problema che legalmente tocchi 3CX se vi siete o no procurati e se sia o meno illegale da quello che mi è stato riferito non vi è nulla di illegale la cosa a maggior ragione è stato esplicitamente indicato ed è diritto del consumatore pretenderlo che non venga utilizzato il modem bloccato dell'operatore ma che io possa quindi avere un router di mia disponibilità e di diretta conseguenza di questo team o l'operatore in generale senza voler fare nomi è obbligato a fornirmi le credenziali quindi è un problema che secondo me svanirà nell'arco di settimane in generale questo è lo stato in ogni caso se voi avete le credenziali le potete usare su 3CX una nota importante è possibile entrare nella lista dei provider supportati e se qualcuno ha esigenze specifiche si va a guardare paese per paese i provider supportati non so memoria a tutti i paesi tutti i provider del mondo non è necessario non è obbligatorio avere il supporto al protocollo T38 significa che può esserci che ci sia un provider ufficialmente supportato che non supporta il T38 se avete un apparato un fax server un qualcosa che i fax li manda in T38 obbligatoriamente andate a controllare se il provider che voi state scegliendo effettivamente supporta o no questo T38 perché voi potreste avere un provider ufficialmente supportato che non lo supporta quindi mi raccomando se voi avete questa esigenza prima di sottoscrivere un abbonamento con un provider non vi basti per vedere che è nella lista dei supportati potrebbe anche non supportare il T38 quindi andate a vedere nello specifico del provider per avere la garanzia del supporto T38 e quando io insisto su certi punti chi vuole intendere intenda perché può darsi che vi capitino domande su questo ok che cos'è il provider l'abbiamo detto e tecnicamente io posso andare ad associare sul mio centralino numerazioni di tutti i paesi del mondo e questo significa che io posso avere un centralino che mi risponde chiamate internazionali sempre dalla stessa macchina e che quando io chiamo altri paesi esco sempre dal mio stesso telefono io quando chiamo gli Stati Uniti esco da un trunk americano e la trasformo la telefonata nazionale in una internazionale in una telefonata nazionale con risparmi conseguenti di bolletta ok quindi non è necessariamente vincolato il fatto che io sul mio centralino debba utilizzare trunk di operatori nazionali come si fa ad aggiungere un trunk è molto semplice vado sul nodo sit trunk faccio aggiungi scelgo la nazione scorro fra i provider supportati della mia nazione scelgo quello che mi piace gli vado a impostare il numero principale di questo trunk se è un account mononumero l'equivalente di una vecchia linea analogica anche se il single account di tutti i nostri operatori oggi normalmente di base può gestire fino a più di 60 telefonati quindi è però un'unica numerazione allora ci metto quel numero lì ne vado a cascata a seguire il a seguire la direttrice di dove voglio che mi venga inoltrata questa chiamata e di conseguenza ho già fatto tutto il trunk si registrerà e direttamente le chiamate in ingresso su questo trunk andranno a seguire l'instradamento che ho impostato per la numerazione principale ma se io avessi più numerazioni che mi entrano sul mio stesso trunk se ho questo caso io non devo andare a istruire il mio trunk per cosa fare per tutte le altre numerazioni in sostanza il centralino seguirà l'istradamento impostato per il numero principale per tutte quelle chiamate dirette a numeri per i quali non esiste una regola specifica cosa significa significa che se io ho 10 numerazioni e ho impostato il default la prima se io non faccio nulla tutte 10 numerazioni mi entreranno dal trunk e andranno a finire in tutte nella destinazione che io ho impostato per il default se voglio che tutte 10 abbiano istradamenti diversi dovrò crearmi altre aggiungere le numerazioni ulteriori e definire regole specifiche e chiederle e fare regole specifiche per tutte le numerazioni che voglio modificare se mi arriva una numerazione per il quale non esiste una regola specifica viene seguita la regola di default sempre riguardo alle domande che state facendo ma è legale usare un Cree diverso dal proprio prefisso no non è legale e i provider sicuramente i provider da noi supportati vi impediscono di farlo e qualora vedano arrivare una chiamata che si presenta con un caller ID diverso da quello che è attestato lato loro centrale a questo specifico trunk quello che viene segnalato verrà ignorato e il provider presenterà il caller ID del trunk utilizzato ok perché immaginate a partire dagli scherzi telefonici cosa nel modo più innocente fino a avere proprie truffe cosa sarebbe possibile fare all'inizio nel VoIP che era Far West si riusciva tecnicamente a farlo oggi sono stati messi in atto contro misure e un provider è tenuto a verificare che il caller ID col quale si presenta la chiamata in ingresso presso di lui risulti allineato a quello che è la ragione sociale e il trunk creato lato suo dopodiché presenterà quel numero al caller ID se invece io ho sul mio centralino registrato registrato correttamente perché ho il diritto di poterlo fare e i provider italiani richiedono una sede legale in ogni distretto nel distretto presso il quale associare un numero quindi io ho un'azienda multisede con sede ufficio a Roma e ufficio a Milano non devo per forza avere due centralini posso avere un centralino unico con trunk Milano trunk Roma il centralino è lo stesso io dal mio ufficio posso avere delle regole per cui esco uscendo con il numero di Milano piuttosto che il numero di Roma o il numero americano eccetera ok quindi però attenzione i requisiti cambiano da paese a paese quindi perché mi venga assegnato quel numero non pensate che nell'est Europa o in l'est l'est in Estremo Oriente certi requisiti siano gli stessi sicuramente per i provider italiani e proprio per un discorso anche di accesso alle centrali dei numeri di emergenza è richiesto avere un indirizzo fisico presso il quale fare riferimento per l'assegnazione di una linea telefonica void ok di tutti questi aspetti tecnici legali però io vi rimando a l'approfondimento a quello col cui sarà il provider col quale voi comincerete a trattare trunk perché io mi aspetto che voi come partner tra CX diventiate anche partner dei nostri provider certificati e chiariate con lui tutti gli aspetti tecnici legali relativamente a questo aspetto io vi posso dire che tecnicamente non c'è nessun problema a registrare su 3CX un numero che va dall'Australia all'Alaska da Sudafrica alla Svezia ok quindi non vi preoccupate cioè tecnicamente il SIP non ha alcun legame geografico fra la numerazione portata dal provider e la locazione fisica della macchina ok vi stavo dicendo per tutte le numerazioni che non sono quelle di default io devo creare devo aggiungerle specificatamente e creare una regola di ingresso che dica al centralino come gestirà questa seconda numerazione in ingresso sullo stesso trunk ripeto nel caso del trunk mononumero quindi l'equivalente della vecchia linea analogica io non ho problemi faccio un'unica numerazione di default e li va ma nel caso in cui io abbia n numerazioni facciamo l'esempio classico i GNR i gruppi di numerazione rapida cioè quei blocchi di 10 100 1000 numeri sequenziali che di solito sono utilizzati dalle medie grandi aziende ecco in questo caso ha un numero di default che magari è quello che il numero radice seguito da 0 a 0 io posso andare a creare altri 99 numerazioni fino a 1234500 1234599 di questi 100 numeri io oggettivamente nella mia azienda ne uso 30 benissimo andrò ad aggiungere le 30 numerazioni 001 025 072 047 che per un motivo o per l'altro vengono utilizzati in azienda servizio reclami fax interno diretto della segretaria dell'amministratore delegato eccetera eccetera quelle che sono le numerazioni che io utilizzo se ne ho usate 30 di 100 non mi devo andare a creare altre 70 regole vuote perché automaticamente come ci siamo detti se la numerazione in ingresso non trova una regola specifica per lei seguirà automaticamente quella che è di default e di solito di default le chiamate vengono indirezzate a quello che è il risponditore frontale dell'azienda piuttosto che al posto operatore quella che è quindi la direttrice che deve gestire il volume il grosso delle chiamate in ingresso ok quindi questo è il senso cioè aggiungete i DID DID è numerazione in ingresso direct inward dialed cioè numerazioni che devono essere digitate in ingresso ecco aggiungete le regole solo per le numerazioni che non seguono i root i routing della numerazione di default ok e dov'è che io posso attraverso queste regole gestire la mia chiamata verso un qualunque interno che sia un interno fisico di una persona o anche di sistema quindi un risponditore una call di chiamata un gruppo suoneria eccetera eccetera una voicemail piuttosto che anche un vero e proprio inoltre a un altro numero esterno un rimbalzo di chiamata per esempio ok come faccio ad aggiungere il DID un piccolo trucco col fatto che i provider possono passarmi la numerazione in ingresso in diversi formati 0039 più 39 senza 0039 eccetera tutte le DID successive alla prima me le andate ad aggiungere scrivendo asterisco ultime sei cifre del numero ad esempio io voglio aggiungere il mio numero 0039 02 1234567 creerò andando su siptrunk DID aggiungi DID come DID creerò solo asterisco 234567 perché in qualunque formato mi venga passato questa numerazione perché sia giusta finirà con 234567 che sia in più 39 0039 senza prefisso internazionale con codici cliente davanti eccetera comunque questo DID finirà con asterisco 234567 ok quindi questo è il modo corretto per creare le numerazioni successive alla prima creata la numerazione sul trunk mi sposto in regole di ingresso e da qui farò aggiungi regola dove nel menu a tendina troverò il asterisco 234567 e lì andrò a scegliere la destinazione finale di questa numerazione se il mio numero la dice andava risponditore iniziale ma il 134567 viene fatto suonare l'interno marcello potrò qui impostare che le chiamate che verso DID asterisco 234567 vanno indirizzate all'interno marcello e quindi si avrà che quando un cliente fa 02 1345 00 1345 11 o qualunque sono le chiamate per i quali non esiste una regola specifica suone risponditore quando viene fatto asterisco 02 1345 1667 viene fatto il matching con questa regola e suona il mio interno ok fatto la prima volta lo troverete estremamente intuitivo ogni regola può avere un'impostazione con doppia destinazione fra aperto e chiuso non estate e inverno ok aperto e chiuso in cui su base settimanale è possibile definire un orario di apertura ok quindi l'orario dell'ufficio è su base settimanale se io ho degli orari diversi da maggio a giugno piuttosto che da gennaio a giugno piuttosto che da luglio a dicembre quando è il momento di cambiare il cambio di stagione modificherò la mia tabella settimanale degli orari in ogni caso nelle regole io ho due instradamenti all'interno delle fasce di apertura all'interno delle fasce di chiusura quindi aperte o chiusi gli uffici non stagione su base settimanale dal lunedì alla domenica risultato e registrato il mio trunk sono già immediatamente in grado di ricevere le telefonate verso le numerazioni specifiche posso anche fare telefonate? no 3CX non è in grado di sapere che se anche c'è un solo trunk mononumero registrato qualunque chiamata deve uscire da lì no non ragiona così ogni chiamata in uscita verrà instradata su un trunk solo se esiste una regola in uscita che me la fa corrispondente come criteri a quella chiamata in questo caso allora verrà instradata di conseguenza cos'è una regola in uscita la vado ad aggiungere nella regola in uscita ed è una serie di criteri 4 per la precisione che mi consentono di discriminare il fatto del tipo di chiamata fatta in ingresso e di scegliere il trunk corretto per la sua uscita quali sono questi criteri numero di destinazione cioè se io faccio una chiamata che inizia per prefisio internazionale per esempio il singolo interno chiamante piuttosto che l'intero gruppo dell'interno chiamante oppure la lunghezza del numero chiamato giocando su questi 4 criteri posso profilare la chiamata in uscita e quindi scegliere se mandarla per il trunk 1 trunk 2 trunk 3 fino a tutti quelli che posso avere attivo sul mio numero non mi risulta ancora entrata in produzione il fatto che possa essere stabilito giorni di ferie per singolo trunk ok considerate questa modalità della filtraggio delle regole di uscita io lavoro in 3-4 anni ed è la stessa da sempre mi hanno detto che era così anche da prima per dirvi che è una cosa assolutamente matura ed efficiente non ha bisogno di particolari e imparato il giochino lo fate in un attimo come si fa? si va in regola in uscita aggiungi oggi come corso base parleremo di facciamo una regola standard poi dopo la gestione avanzata delle regole se ne parla più avanti nel corso degli sviluppi di questi webinar allora immaginiamo di avere un unico trunk ok e voglio che tutte le mie chiamate vadano fuori da lì allora io farò un'unica regola molto semplice che mi dice che tutte le chiamate che mi iniziano con nel primo criterio da 0 trattino 9 e il trattino sta per range quindi numeri che iniziano da 0 a 9 virgola elemento separatore più quindi senza le virgolette qui le chiamate che iniziano con 0 9 trattino più 0 trattino 9 virgola più me le mandi fuori su il mio trunk di default ok se faccio così tutte le chiamate del mio centralino andranno sempre verso questo trunk perché? perché non c'è numerazione telefonica che non inizi con una cifra o con il simbolo più ok e quindi con questa semplice regola io ho gestito tutte le possibili chiamate in uscita sul mio centralino fatelo nei vostri centralini di prova e vedrete che così voi riuscirete a con un'unica regola intercettare e indirizzare su quel trunk tutte le vostre telefonate nei prossimi corsi vedremo invece una profilatura molto più puntuale molto più raffinata delle regole in uscita sono stati citati i numeri di emergenza il VoIP ha come è stato detto anche qui generato una problematica e cioè il totale la totale indipendenza della locazione fisica del mio centralino dalla numerazione vera e propria dalla linea vera e propria con il quale effettuo le chiamate ok questo se per fini commerciali ha poco o nulla anzi ha solo vantaggi ha un aspetto però delicato per quanto riguarda la gestione dei numeri di emergenza caso classico prende fuoco il magazzino chiamo il 115 ok ma se io sono nella sede di Milano e io ho impostato di usare il trunk di Roma mi rispondono i vigili fuoco di Roma ok e mi diranno ma guardi c'è il mio magazzino in fiamme in via Roma 4 come via Roma 4 è la strada di fianco e siamo in pieno centro le posso garantire che qui non c'è niente ma come qui siamo in via Roma 4 stiamo prendendo fuoco tutti ma dove si ritrovi io sono a Bustorzizio scusi ma io sono qua dalla centrale di Roma come mai io vedo uscire la chiamata lei mi sta chiamando dallo 06 ok quindi in una gestione oculata di un centralino VOIP avete due aspetti da considerare i conseguenti di questo aspetto il primo gli interni a tre cifre iniziano con un nel caso di interni a tre cifre gli interni italiani corrispondenti alle numerazioni di emergenza li vedete indicati qua 112 non ho messo il 117 della finanza quello quello ve la lascio ma diciamo che i numeri effettivamente di emergenza è un problema che si andrà a ridurre perché in Emilia Romagna è già operativo in Lombardia è già operativo e andare al 2020 paghiamo anche una multa credo all'Europos perché siamo in ritardo su questo ma andare al 2020 obbligatoriamente l'Italia sarà tutta su un numero unico di emergenza nazionale il 112 quindi è un problema che si ridurrà un solo interno 112 in ogni caso dovrete verificare qualora l'azienda sia multisede abbia ntranc distribuiti per cui io chiamo volta per volta uscendo da una linea dall'altra che creando dei gruppi gruppo sede Milano quando viene fatta una numerazione che inizia con 11 di tre cifre me la fai uscire dal tranc attestato alla sede di Milano ok e non ci sono interni corrispondenti alle numerazioni di emergenza sono due aspetti estremamente importanti che richiedono attenzione da parte vostra è anche la configurazione all'interno di impostazioni PBX numeri di emergenza l'inserimento di quelli che sono i numeri di emergenza perché i numeri di emergenza quando vengono digitati non vengono considerati eventuali giorni di ferie blocchi di chiamate i numeri di emergenza escono sempre ma solo se li avete messi fra i numeri di emergenza se io prendo e cerco di fare una chiamata al 112 da un interno del magazzino per il quale sono state disabilitate le chiamate esterne ecco che avrò problemi invece se è un numero di emergenza la chiamata uscirà ok quindi ricordatevi chiedo scusa è vero l'ho caldo io l'ho fatto 133 e 113 ovviamente grazie grazie non me lo sono notato perché è il primo corso che viene fatto con questo slide eppure l'avevo riguardato tant'è vero che sotto è corretto quindi buona sapersi 13 su 17 del modulo l'ho notato adesso e se notate altri errori di digitazione ditemelo perché le ho aggiornate in questi giorni chiaro comunque ci siamo capiti attenzione evitare sovrapposizioni fra interni e numeri di emergenza gestire le chiamate in modo tale che gli interni escano nel caso di digitazione di questi numeri dagli trunk effettivamente associati alla loro locazione geografica è ovvio che se uno fa se io faccio il 112 dalla mia app telefonica mentre sono in giro per il mondo suonerà magari in cui sono a Modena il carabinieri di Modena io magari sto subendo una rapina mentre sono per una strada di Milano o di Bari e non ci posso fare niente ma dovrei non usare l'app 3x in quel caso per chiamare ok legato a questo c'è un discorso del Caller ID in uscita io ci sono tre livelli il provider ha di suo un Caller ID associato al mio trunk che di solito è il numero radice io posso nel momento in cui lo vado a configurare nel trunk nel campo Caller ID impostare quello che voglio essere il numero di default del mio trunk vi faccio un esempio ci può essere il caso in cui ho il provider che mi dà il gruppo il GNR 1234560099 e io voglio perché ho scritto così è il vecchio numero è che la numerazione che va al risponditore di default sia 11 quindi io ci vado a mettere come Caller ID in uscita di default 12345611 vuol dire che tutte le chiamate uscenti da questo trunk si presenteranno al provider chiedendo di passare come 11 finale il provider sa che quello è un Caller ID associato a me che sta usando quel trunk lì e quindi mi fa uscire correttamente non varrebbe se fosse per altri per altre numerazioni che non passano su quel trunk lì però in più annidarlo ancora di più andando a impostarlo nel Caller ID dello specifico interno quindi io sono l'interno 67 e o meglio per il quale ho la numerazione 1234567 e posso impostare che quella numerazione nel Caller ID del mio interno e quando io chiamerò presenterò quel Caller ID che verrà applicato dal provider solo se starò uscendo solo con quel trunk perché se io userò un altro trunk per il quale non c'è quella numerazione attestata il mio provider lo ignorerà e presenterà il suo il suo numero di default non ho capito la domanda relativamente al fatto che sia solo per la selezione passante io sto parlando di Caller ID in uscita ok io posso definire su diversi livelli il Caller ID che o il default a livello del trunk o il singolo interno presenterà al provider nel caso di chiamate ok siamo un po' in ritardo alcuni dei bei i formati telefonici per l'Italia li sapete ci possono essere diversi in altri paesi del mondo informatevi qualora dovete attivare trunk francesi o spagnoli in chiusura dopo aver aperto un trunk e registrato le chiamate in uscita cadono dopo 32 secondi cosa faccio? beh allora in questo caso se è questo il comportamento io so per certo che il problema è il firewall non chiamate 3CX se nel momento in cui chiamate in uscita queste cadono dopo 32 secondi è matematico è il vostro firewall l'alternativa potrebbe essere che stiate uscendo da un IP che non è quello che voi pensate che non è quello che è stato che è impostato nella configurazione del centralino ma in entrambi i casi c'è un errore o del firewall o del vostro di configurazione quindi se le chiamate in uscita escono dopo 32 secondi verificate di nuovo il firewall check intervenite in ogni caso con l'assistenza del firewall per capire che cosa sta andando oppure controllate nuovamente l'IP pubblico dell'inseradamento verso internet pubblica da parte del vostro centralino discorsi analogo nel caso di audio monodirezionale nella stragrande maggioranza dei casi vedrete che c'è un firewall non superato oppure viene comunicato l'IP pubblico sbagliato se io ho un solo provider io uscirò sempre una sola numerazione il provider mi passerà sempre quella sempre e sola la numerazione associata non ho altre numerazioni possibili riconosciute dal provider ok un minuto di pausa e riprendiamo grazie 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 eccoci qua bene non ho visto domande quindi spero di essere stato abbastanza chiaro ok procediamo con l'argomento di oggi la voicemail che rispetto al vecchio corso è una funzionalità che è stata promossa a rango di avere un modulo dedicato è la prima volta in particolare che vediamo queste slide qui magari fate attenzione se vedete degli errori di digitazione queste sono nuove nuove ok che cos'è la voicemail la voicemail è la casella vocale la segreteria telefonica ok buongiorno siete in linea con la segreteria telefonica di Marcello Levi lasciate un messaggio non sono al momento disponibile lasciate un messaggio dopo il bip credo che ciascuno di voi abbia avuto occasione di ascoltare messaggi simili n volte nella sua vita personale e professionale bene per 3CX la casella vocale è abilitata di default per tutti gli interni quindi tutti gli interni che io vado a creare avrò la voicemail abilitata e di conseguenza sarà possibile utilizzarla come destinazione per n casistiche ad esempio in quel momento sono occupato al telefono oppure sono in pausa pranzo ok la voicemail è multilingua significa che per ogni interno c'è la possibilità di localizzare i messaggi in lingua specifica perché perché la voicemail ha tutta una serie di menu di opzioni per riascoltare il messaggio cioè sto parlando in questo caso soprattutto di quanto riguarda l'aspetto io interno che gestisco la mia casella vocale quindi tutte le operazioni che posso fare da ascoltare i messaggi cancellare i vecchi messaggi eccetera eccetera tutti questi messaggi di sistema possono essere localizzati nella lingua specifica quindi il collega commerciale inglese o la sede americana hanno gli interni con la voicemail in inglese ok però per ogni interno quindi è personalizzabile a livello di interno considerate che per quanto sia lo vedremo fa un attimo disabilitata di default è possibile abilitare nel menu della voicemail la possibilità di poter usare la voicemail come trampolino per fare chiamate in uscita dal centralino qual è un caso classico io vado in vacanza alle Maldive per esempio dove magari non c'è copertura telefonica però io sono una persona molto coscienziosa e tutti i giorni vado nella hall del villaggio e faccio una chiamata alla mia ufficio alla mia segreteria telefonica per sentire i messaggi e vedere se ci sono eventuali emergenze nel momento in cui io chiamo la mia casella vocale dall'esterno per sentire i messaggi registrati ho un menu che mi dice le cose che posso fare cancellare il messaggio riascoltarlo eccetera e ho anche la voce di menu che mi dice se desidera effettuare una chiamata in uscita mettiamo che io ricevo un messaggio che mi dice Marcello guarda ho il cliente di cui ti avevo parlato la settimana scorsa prima che tu andassi in ferie che ha un guaio grossissimo siamo bloccati per piacere appena senti questo messaggio richiamami io allora chiamo la mia voicemail sento questo messaggio di panico e scelgo l'opzione della voicemail per fare chiamate in uscita e sono sul tastiere del telefono della sala d'attesa della hall del villaggio delle Maldive da lì digito il numero che voglio chiamare e chi è che chiama il mio cliente disperato chiama è il centralino che chiama e lui si vedrà arrivare a display il caller ID non dell'albergo delle Maldive ma del trunk in uscita del mio centralino cioè il centralino fa da tramite attraverso la voicemail collegando la chiamata in ingresso con la chiamata in uscita dalla cui destinazione l'ho digitata io ok e questa è una possibilità non è detto che debba per forza essere abilitata anzi di default è disabilità inoltre sempre dai menu interni della voicemail io posso utilizzarla per cambiare il profilo del mio interno prendo su e parto e vado in ferie e non mi sono messo in due not disturb me ne accorgo perché mi arrivano telefonate sull'app in quale oppure mi arriva una mail o un messaggio che dice guarda che continua a suonare il tuo interno devi disattivarlo io posso dall'esterno sempre dal mio della hall del mio villaggio delle Maldive chiamare la voicemail e mettere il mio interno in due not disturb se non ho altri nomi ok quando invece quindi queste sono le cose che può fare un interno pilotando le funzionalità della propria voicemail come si fa invece il centralino ad avvisare l'interno che gli sono stati lasciati dei messaggi in voicemail e sui telefoni di hardware la nostra grande maggioranza dei telefoni di hardware credo forse tutti quelli supportati c'è un apposito led che si chiama MWI cioè Message Waiting Indicator che è di fatto la spia che lampeggia quando mi viene lasciato un messaggio in alcuni è un pulsantino con la forma della bustina in altri è un led in un angolo ok quello che secondo il firma del produttore ha la funzionalità di indicatore di messaggi in attesa io quindi posso impostare che per quell'interno è il classico impiegato con postazione fissa che lavora sempre con il suo telefono sulla scrivania benissimo lui avrà la notifica tramite MWI oppure posso attivare in parallelo anche la possibilità di avere una notifica via mail cosa significa significa che posso mandargli una mail con diverse possibilità solo una mail pura che gli dice guarda hai un messaggio in segreteria e quindi sarà lui attraverso accedendo e chiamando la sua segreteria attraverso i vari canali possibili a sentirsi il suo messaggio potrà essere una mail con il WAV allegata alla mail stessa quindi hai ricevuto un tal messaggio e uno trova in allegato alla mail stessa il WAV del messaggio audio può essere una mail con messaggio audio e la contemporanea cancellazione del file WAV dal centralino quindi l'unica traccia di quel WAV resta nella mail ricevuta ok come faccio poi ad accedere alla voicemail sia dal client che dal web client avrò la mia sezione voicemail dove eventualmente posso fare doppio click oltre che dalla mail anche del file WAV allegato ok quindi sono tutti diversi modalità con le quali io ho visibilità del fatto che ho ricevuto un messaggio questi messaggi in che formato sono sono in quello che è il formato audio standard del centralino che è PCM 8kHz 16 bit mono vedremo poi come è possibile anche usare un altro formato di compressione ma questo è anche il formato standard utilizzato quando io registro i miei messaggi calcolando che io posso avere messaggi diversi per i diversi profili del mio interno vi faccio un esempio i profili del mio interno di cui parleremo più approfonditamente nei prossimi corsi sono 5 e sono disponibile quando io sono normalmente verde e registrato su tutti quanti in modo tale che sono pronto a ricevere chiamate giallo e viene utilizzato per soste brevi interruzioni brevi pausa pranzo pausa caffè qualcosa che indica anche i miei colleghi che sono alla scrivania ma non sono cioè sono operativo ma non sono in questo momento alla scrivania ma di solito è inteso che ci sto per tornare piuttosto che rosso il do not disturb proprio guarda che se mi vuoi chiamare adesso non c'è dubbio che ti risponda anzi magari mandami una mail direttamente ok ecco immaginate che nel caso del io sono disponibile quindi sono in ufficio regolarmente ma sono al telefono in questo caso io compaio sono in stato di disponibilità di spazio disponibilità però non posso parlare in questo momento al telefono ecco ma è questione perché sono occupato in un'altra telefonata allora io potrei avere un inoltre alla voicemail in questo caso con un messaggio che dice mi spiace non potervi rispondere sono in questo momento occupato in un'altra telefonata riprovate fra due minuti e forse avete più fortuna ok viceversa io mi sono messo in stato di giallo perché sono andato a prendere il caffè di solito le mie pause caffè durano 30 minuti o un quarto d'ora 30 minuti e ho impostato che quando mi arriva una chiamata in questo caso mi vada la voicemail in questo caso potrei avere un messaggio che dice sono brevemente assente dalla mia postazione rientrerò entro breve siete pregati di richiamare entro i prossimi fra una ventina di minuti capite è già diverso da prima terzo caso indirizzo alla voicemail le chiamate che mi arrivano mentre sono in stato di not disturb che dice mi spiace non sono al momento in ufficio vi risponderò i miei orari di lavoro sono dalle 9 alle 13 dalle 14 alle 18 se avete emergenze vi invito a chiamare il numero dedicato alle emergenze fuori orario oppure lasciate un messaggio e vi richiamerò appena possibile capite? a seconda di quello che è lo stato del mio interno in origine quando è stato fatto l'inoltro la casella vocale posso avere dei messaggi diversi che istruiscono il chiamante a fare cose diverse magari non ha senso che uno mi lascia un messaggio di 20 secondi o di un minuto se poi io nel frattempo ho già messo giù per dire perché ero semplicemente occupato viceversa non ha senso che uno mi lascia un messaggio in segreteria se io sono in ferie per due settimane e non lo ascolterò fino a dopo la fine di settembre ok? quindi magari potrei mettere in drop 2 disturbo carico al mio messaggio dicendo vi avviso che sono in ferie fino a fine mese per qualunque necessità fate riferimento al mio collega Mario esiste in più a partire dalla funzionalità service pack 6 la possibilità di avere un servizio di trascrizione cosiddetto text to speech ok? cioè ormai scusa speech to text cioè la possibilità di avere un servizio che mi trasforma in testo scritto il messaggio vocale lasciato dal chiamante utilizza un account e delle app di microsoft bing il quale vi dà un periodo di trial di 30 giorni dopo il quale va a pagamento ma va a pagamento per microsoft ok? noi lo abbiamo implementato se voi lo volete attivare e utilizzare provatelo ma dopo ne parlerete e pagherete microsoft per l'utilizzo di questo di questo servizio si viene attivato viene attivato a livello globale e il testo trascritto viene nel caso c'è stata abilitata la mail di notifica all'interno viene direttamente inserito nella mail o comunque può essere aperto dal web client del pc ok? quindi invece di dovermi stare ad ascoltare dei messaggi sentirò direttamente la loro trascrizione devo dire che anche per l'italiano funziona dignitosamente bene se magari ci può essere qualche parola non abbiamo provato con chiamanti che lasciano messaggio in dialetti spinti ma in un italiano mediamente intellegibile c'è un'ottima un'ottima pregiungione paragonabile a quella che possono essere i comandi vocali di Siri piuttosto che di ok Google ok? quindi in generale è piuttosto buona per la parte lo spazio disco utilizzato dalle registrazioni delle mie voicemail è possibile definire una quota ok? quindi le voicemail non occuperanno più di n giga sul disco e in più viene attivata una mail di avviso che viene mandata all'amministratore quando una determinata percentuale di quella quota viene raggiunta io definisco la percentuale di quella quota ok? posso inoltre cancellare automaticamente i messaggi più vecchi di n giorni lasciati sul mio centralino per mantenere quindi più facilmente pulito il mio disco dicevamo proprio perché la voicemail può essere considerata anche una sorta di backdoor accedendo e autenticandomi sulla voicemail posso arrivare a fare chiamate in uscita ecco che è anche possibile disabilitare l'intera funzionalità di voicemail e qualora arrivi una chiamata quell'interno provi a consultare sentirà un messaggio che la voicemail di questo interno è disabilitata il mio consiglio è abilitata per tutti gli interni di default per tutti quegli interni che non ne fanno uso e ce ne sono tantissimi anche in ufficio dei miei colleghi che per le loro prassi non fanno uso della voicemail e non hanno scenari per il quale la voicemail viene indirizzata a loro disabilitatela direttamente ok è poi è possibile disabilitare l'autenticazione via pin cioè quando io chiamo la mia voicemail per sentire i miei messaggi devo digitare un pin è una delle informazioni che sono contenute nella web di benvenute dell'interno il proprio voicemail pin bene è possibile disabilitarlo ma questo avviene solo qualora il dispositivo chiamante sia uno degli degli apparati associati a quell'interno mi spiego se io anche se ho disabilitato l'autenticazione via pin chiamo la casella di voicemail dalla hall dell'albergo alle Maldive l'autenticazione pin ce l'ho ok se la chiamo dal mio telefono di scrivania associato al mio interno non mi viene chiesto l'autenticazione pin ok considerate che dopo tre autenticazioni fallite quella quella che il chiamante è bloccato per i successivi due minuti e il pin di default è quattro cifre ma può essere alzato fino a dieci di fatto nei centri nuovi non è più non è non è un grosso rischio però in generale il consiglio che io vi do è di disabilitarlo per disabilitare l'intera voicemail per gli interni che non ne fanno uso e in più sappiate che la possibilità di proposta che verrà proposta a menù di usarlo per chiamate verso l'esterno di fatto è disabilitato quindi nella maggior parte dei casi non si avrà mai il rischio che un accesso fraudolento a una casella di voicemail possa essere utilizzato per lanciare chiamate in uscita questo è stato storicamente non per 3x ma uno dei veicoli perché è una funzionalità standard di tantissimi centralini per le truffe VoIP nel passato ultimi consigli le voicemail non sono contenute nel backup di default quindi se le volete inserire dovrete nel momento in cui farete un backup aggiungere quella voce specifica e vi consigliamo quando usate le notifiche mail di utilizzare l'opzione anche con rimozione del file questo per evitare di rendere sia di usare troppo spazio disco o di rendere i backup troppo pesanti da gestire ok questo per quanto riguarda la voicemail appunto funzionalità da poco assunta promossa al rango di modulo a sé stante siamo in chiusura con un altro delle funzionalità standard del centralino e che credo tutti voi avrete avuto a che fare nella vostra vita sia personale che lavorativa il risponditore vocale altrimenti detto IVR ok cioè il segretario digitale buongiorno siete in linea con la Marcello Levi SPA per amministrazione premere 1 per ufficio commerciale premere 2 per supporto tecnico premere 3 oppure restate in linea per parlare con l'operatore credo che chiunque di voi si sia trovato nella dalla parte del chiamante nella sua vita ok vediamo quali sono le funzionalità le modalità di configurazione per questa funzionalità telefonica diciamo abbastanza standard ok cioè che cos'è un risponditore vocale è un messaggio al quale fanno seguito una serie di opzioni associati ai 10 toni di tmf delle 10 cifre del mio centralino da 0 a 9 cosa devo fare quindi devo creare un messaggio che dia o meno informazioni al mio chiamante su quelle che sono le opzioni attive sul mio iwr apro una piccola parentesi e vi do un consiglio per chi magari proviene dal mondo informatico e non ha molta esperienza nel mondo della telefonia vi faccio un esempio giusto e uno sbagliato siete in linea con la marcello levi spa premere 1 per amministrazione premere 2 per commerciale premere 3 per supporto tecnico l'alternativa potrebbe essere siete in linea con la marcello levi spa per amministrazione premere 1 per ufficio commerciale premere 2 per supporto tecnico premere 3 ecco il primo apparentemente sono identici il primo è sbagliato il secondo è corretto non a livello funzionale ma proprio per un discorso umano quando io prendo un telefono e faccio un numero e dall'altra parte sento una voce registrata automaticamente a meno che io non sia proprio ansioso di parlare con la persona che voglio raggiungere spengo metà del cervello comincio a deviare riguardare la mail che sto facendo il telefono se mi è arrivato un messaggio eccetera eccetera e ascolto solo con metà cervello quello che mi sta dicendo il messaggio se io ho bisogno di supporto tecnico se il messaggio è premere 3 per supporto tecnico io non sto ascoltando e quando sento supporto tecnico mi sveglio ma l'opzione l'ha già detta il modo corretto è per supporto tecnico premere 3 ok sul piccolo ufficio la piccola azienda non ci sarà un grosso problema su risponditori di aziende meglio grandi che gestiscono decine centinaia migliaia di chiamate in ingresso ok ogni chiamata durerà qualche secondo in meno perché ci avrà un'efficienza totale nella gestione che a fine mese e anno saranno ore uomo di persone che sono state al telefono ad ascoltare il messaggio fidatevi è così ok quindi quando voi istruite il cliente a registrarsi il suo messaggio di benvenuto ricordatevi di fargli dire prima il servizio corrispondente seguito dall'opzione numerica esiste la possibilità di quello che viene chiamata da noi direct dial cioè la possibilità di digitare nel caso l'utente non sia a conoscenza direttamente l'interno desiderato e questo è attivo di default cioè vi sarà capitato magari anche a voi di sentire buongiorno siete in line con la Marcello e le VSPA per amministrazione premere 1 per supporto tecnico premere 2 oppure se siete a conoscenza dell'interno dell'interno desiderato digitatele ora ecco questo è il classico direct dial io so che Marcello è il 167 mentre sento il messaggio faccio 167 e suona all'interno di Marcello ok questa è la funzionalità direct dial che è attiva di default su un centralino ok i messaggi audio come detto devono essere nel formato che ci siamo già detti come si fa vado sul mio menu risponditore vocale aggiungi gli do un nome front end italiano per esempio registro il messaggio audio o la posso registrare direttamente da un telefono oppure se l'ho già pre-registrato con un file con un app di audio nel formato corretto semplicemente lo vado a caricare qui dentro e posso dare ad assegnare al mio risponditore una lingua di sistema significa che i messaggi dall'ora in poi i messaggi di sistema tipo restate in attesa mentre viene trasferita la vostra chiamata e l'interno chiamate nel momento occupato cioè quelli che sono i messaggi automatici del sistema e prenderanno il set di linguaggio che voi avete associato a questo tipico risponditore qual è lo scenario tipico ma che verranno applicati da adesso in poi qual è lo scenario tipico azienda internazionale che ha un IVR multilivello nel quale c'è un messaggio detto magari prima in italiano e poi in inglese che dice per italiano per inglese premere due per tedesco premere tre per francese premere quattro uno spinge tre e sente il messaggio in francese bienvenue e tutto quanto ecco questo qui sarà un risponditore che ha la lingua francese e da quel momento in poi i messaggi saranno in francese i messaggi di sistema ok quali sono i possibili stradamenti che corrispondono alle mie n opzioni possibili ecco ogni VR ha dieci opzioni possibili che corrispondono ai tasti da 0 a 9 i DTMF dei tasti da 0 a 9 posso farli collegare a un interno a un gruppo di suoneria una cosa di chiamata cosa sono questi oggetti logici del mio centralino ne approfondiremo nei prossimi giorni posso collegare a un secondo risponditore vicale quindi creare quindi una struttura multilivello anche lì c'è un errore ma pensavo di averlo corretto sincero su quella centralizzata l'ho corretto menun cioè quindi la possibilità di fare un risponditore multilingua posso indirizzare a una voicemail oppure posso gestire la ripetizione del messaggio per ripetere il messaggio premere 9 ok esiste questa è una cosa che in Italia non ho mai trovato nessuno che me l'ha chiesta e io stesso l'ho vista me l'hanno fatta davanti una volta e poi 4 anni fa e non l'ho mai più vista applicata in realtà è molto utile è molto richiesta nel mondo anglosassone in particolare negli Stati Uniti e si tratta del call by name cioè il fatto di poter far registrare ai miei interni il loro cognome in un di loro ognuno si registra vuoi parlare con Levi benissimo e il sistema è in grado di adattare di nel momento in cui mi viene chiesto il call by name il cliente il chiamante digitando le lettere associate alla tastiera numerica di tutti i telefoni moderni sapete che l'1 non era niente ma 2A ABC il 3DF eccetera io compongo Levi che sarebbe quindi L cioè 5 3 V 5 3 8 4 viene composto una stringa alpanumerica da quei DTMF che il centralino verificherà se vi sono altri che hanno composto le cui combinazioni di cognome va a concidere con quella stringa alpanumerica se è così mi viene proposto vuoi parlare con Levi o con Kevi per esempio o Gevi ok o Getty vuoi parlare con Levi o con Katie abbiamo tutti e due lo stesso e ci sarà bisogno che Levi abbia registrato il suo e Katie abbia registrato il suo ok e dopodiché mi consente una voce guida di scegliere quale delle varie opzioni dei vari omonimi o meglio di pari codice abbiano questo server soprattutto negli Stati Uniti dove ci sono Harris Harris è più è una cosa che in Italia non mi è mai stata richiesta il giorno in cui vi doveste avere questa funzionalità necessaria ne parleremo sappiate che esiste ok io stesso la dovrò ripassare nel giorno in cui voi dovreste averne bisogno il direct l'abbiamo già detto è attivo di default e voi considerate che il centralino ha quello che si chiama un interdigit timeout cioè considera terminata la digitazione dopo due secondi se quindi il numero è considerato terminato e nel momento in cui sono passati due secondi dopo la chiusura cioè se io ad esempio voglio chiamare l'interno 167 però non mi ricordo se è 167 168 e io faccio una chiamata se risponde il il centralino il LVR e dico aspetta che chiamo direttamente Marcello 167 e faccio 1 6 ma era poi chiede ma Marcello è 167 o 168 il mio collega ci guarda fa 167 io però dopo aver fatto 1 6 ho lasciato passare più di due secondi il sistema ritiene terminata la digitazione verifica se per lui esiste qualcosa esiste come 16 non esisterà perché un centralino a tre cifre e l'IVR accetta solo selezioni a una cifra e verrà riprodotto di nuovo verrà seguita l'opzione impostata per codice errato che è una delle opzioni che andiamo a mettere ok quindi ricordatevi questo mi è capitato nella mia storia di dover modificare questo parametro andando intervenendo manualmente perché c'era un avvocato oltre a 80enne che ancora andava in ufficio e che aveva tempistiche della selezione dei tasti lunghissimi e sulla base di questo il cliente aveva il suo abbiamo dovuto alzare la tempistica il massimo è 4 ok nel caso appunto di input mancante o di errato posso andare a scegliere cosa fa di fare ripetere il messaggio mandare al post operatore terminare la chiamata o tutta una serie di cose qui vi posso dire e siamo in chiusura che non ho praticamente mai richieste di assistenza su questo modulo è qualcosa di estremamente intuitivo nella sua configurazione e di col fatto che tutti voi ne avete di fatto sperimentato le varie opzioni nella vostra vita professionale e personale di solito nessuno mi va a chiedere come funziona o cosa serve la tal opzione perché è di immediata comprensione l'ultima cosa vacanze il centralino quando viene impostata sul suo calendario se ne parla in 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 un modulo apposito ma viene impostata una un giorno di vacanza e viene ricevuto a una chiamata in quello che è considerato un giorno di vacanza chi è che gestisce la chiamata in questo caso la gestita la chiamata in questo caso viene gestita da quello che è il risponditore hall che sta per holiday e che trovate già attivo e di default e non eliminabile in tutte le nuove installazioni se voi aprite la pagina risponditore ivr di qualunque centralino di nuova installazione lo trovate già attivo è già esistente è un risponditore come tutti gli altri semplicemente non lo posso cancellare o non lo posso rinominare e ha la funzione specifica di assumersi e di essere lui l'oggetto che risponderà alle chiamate nei giorni mappati come giorni di vacanza in questo risponditore c'è già un messaggio audio precaricato che è officeclosed.uav ufficichiusi.uav che in italiano siamo chiusi lasciato un messaggio o una cosa del genere non mi ricordo che potrete ovviamente andare a personalizzare a questo punto voi avete due scelte nel momento in cui andate a creare un giorno di vacanza potrete associare a quel giorno di vacanza un messaggio audio specifico quindi ad esempio chiusura estiva dal 4 al 18 agosto si dice si registra il messaggio buongiorno siamo chiusi per chiusura estiva i nostri uffici saranno chiusi dal 4 al 18 agosto saremo lieti di rispondere alle vostre contatti a partire da quella data ok quindi io creo una vacanza e gli associo un messaggio audio specifico qualora io crei una vacanza e non gli vada ad associare un messaggio d'audio specifico il sistema risponderà il risponditore all riproducendo quello che è il messaggio di default caricato sul risponditore all quindi con un messaggio generico i nostri uffici sono chiusi per esempio ok quindi quando c'è una data di vacanza il sistema verifica se per quella data è stata caricata un messaggio specifico viene riprodotto il messaggio specifico se non è stato caricato viene riprodotto il messaggio di default del risponditore all anche nel primo caso però cioè quando c'è stato caricato un messaggio specifico comunque chi sta gestendo la chiamata è il risponditore all che ha le opzioni da 0 a 9 configurabili ok quindi se per esempio io ho impostato che il pulsante 8 fa sì che la chiamata venga inoltrata al cellulare del mio tecnico 24 7 per esempio se anche non lo dico nel messaggio il risponditore l'opzione 8 è stata impostata se io sento il messaggio il mio i nostri uffici sono chiusi ripriamo dopo il 18 agosto e io premo 8 quell'opzione mappata sul mio iwr viene inoltrata la chiamata anche se è ferragosto chiaro? questo vale anche al contrario come faccio ad essere reperibile sul mio interno aziendale anche nelle giornate di vacanza bene allora stabilite che il pulsante 7 è inoltro al tuo interno questo è il tipo dell'avvocato che vuole essere in ufficio quando vuole anche nei giorni di vacanza lui vuole essere responsabile dai suoi amici dai suoi clienti da sua moglie voi fate che il pulsante 7 del risponditore fa suonare il suo interno diretto e chi il vuole o chi è stato informato di questo quando è un giorno di vacanza e sente il messaggio di chiusura per il patrono piuttosto che di Natale comunque se premo 7 fa suonare l'interno ok? l'importante è che sia mappato all'interno del risponditore all questo è quanto sì l'interdigit timeout è un parametro generico del centralino che è il valore oltre al quale la digitazione è considerata chiusa ok? di una numerazione bene io non ho altri argomenti per oggi abbiamo 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 finito e per qualunque cosa sono adesso a vostra disposizione abbiamo ancora qualche minuto se no vi ringrazio vi saluto vi rimando alla mercoledì a mercoledì prossimo per il proseguo degli argomenti se ne parlerà nel modulo registrazione comunque è APCM il formato che ha pro e contro è più compresso ma è meno reproducibile se ne parlerà ma questo è il formato col quale noi comprimiamo e non col quale carichiamo i file i nostri file da caricare sono comunque i WAV nel formato nostro e vi ringrazio per l'attenzione non ho capito la domanda la regola di default per non dover definire è già stata creata nel momento in cui ho creato il trunk è annegata nella definizione del trunk stesso non è bisogno non devo creare altre regole cioè la regola che io creo nel momento in cui registro un trunk nella registrazione di un trunk mi viene chiesto dove inoltrare le chiamate per orario d'uscita e orario di ufficio fuori o dentro l'orario di ufficio quella è la regola di default cioè lì andranno tutte certo in qualunque momento io apro il trunk sul trunk e aggiusto quindi ho voglio passare da interno operatore a IVR nuovo e cambio la destinazione do ok e istantaneamente le nuove chiamate entreranno e andranno in diretta da un'altra parte ok quella è quella di default la gestione delle regole più raffinate ne se ne parla nei prossimi nei prossimi moduli ci vediamo martedì di no chiedo scusa fatemi controllare che non vi do mi sembrava ricordare fosse mercoledì ma vado a vedere può darsi che mi sbaglio io avete ragione martedì ok quindi su tre giornate ok martedì 18 per il corso intermedio ok 15 e 30 grazie a tutti buona serata buon proseguimento per tutti coloro che molto consigliato vorranno proseguire il percorso di training fino al corso avanzato nella settimana dopo ancora grazie per l'apprezzamento arrivederci di nuovo